oggi vi voglio mostrare alcune cosine a tema di cartoleria che ho preso ovviamente su wish sempre a un euro quindi un euro più un euro di spedizione. I primi sono questi fatti a orsetto e sono degli stickers che si sono già riattaccati perché li avevo aperti ma si sono già riattaccati e ve li mostro perché sono carinissimi e poi sono, aspettate, ecco col fondo trasparente vedete che hanno il fondo trasparente e poi sono così sono davvero molto carini non mi ricordo se c'è scritto quanti sono ma credo che in cinese facciamo un po' 50 credo che siano 50 e questi sono così carinissimi per me tutti ovviamente col tema orsetto poi altra cosa che ho preso e questa la trovo perfetta per agende, calendari e da segnare alla fine facciamo prima di farvi vedere così senza aprirli sono degli emoji tutti sorridenti ok mi trovo comodi da metterli sul calendario per segnare e sono fogli da 10 quindi sono 10 foglie tutti uguali ecco qui e questi li trovo davvero carini e soprattutto comodi per segnare le cose anche colore diverso così sono belle in evidenza andiamo avanti con il tema cartopazia perché ho trovato a 1,95 euro con preso spedizione questo fabucchi si chiama a forma di stella adesso ci devo togliere un attimo l'adesivo che c'era qui ma basta un po' d'alcol e viene via perché l'avevo visto tempo fa da Tiger ma adesso che ho pensato cosa farci ovviamente non li trovo più comunque è il classico ok che fa la forma di stella e poi da qualche parte l'ho trovata eccola qui fa anche le stelline la fa i buchi a forma di stella semplicissimo però lo volevo aspettate perché qui siamo cartopazia a manetta allora vi faccio vedere prima questo ma prima le biro dai su che faccio le togliamo vi ricordate quando eravate bambini le biro a multicolore ecco anche queste sono uguali più semplici magari però carine molto carine e scrivono davvero le ho provate le ho provate e scrivono non sono proprio fedeli fedeli i colori ma comunque sia ci sta poi altra cosa che vi mostro che cos'è questa? guardate una gomma è anche bella è molto carina è simpatica e mi piace e adesso vediamo le cose pucciose prima di tutto questo che è olografico quindi un po' la telecamera con una balena e è un libricino piccino ma si apre ed è pieno di post it allora partiamo da qui questi questi che sono i piccolini e poi ci sono questi questi qua che sono piccini tipo segnalibro segna pagina ma anche carini questi sono fatti a due e questo qui e vi ricordo che tutti questi set è un euro l'uno ed è davvero carino poi dopo vi mostro gli adesivi per finire allora questi allora questi ecco l'esatto sono sei fogli e sono sei fogli tutti diversi questo è bellissimo per Natale e poi c'è questo che va benissimo anche per l'agenda per il calendario è sempre perfetto e ultima cosa che vi mostro eccolo qui sempre adesivi questi col pulcino non li ho ancora aperti quindi li apriamo insieme aspettate vado piano per non rovinare niente sono piccini ma volevo vedere ecco qui esatto sono trasparenti dietro quindi secondo me chi fa le creazioni in resina che potrebbero anche interessarli questi e sono sì alcuni sono doppi però ecco sono carini e sono questo si è doppio e sono tutti ovviamente a tema di questo pulcino ci sono anche con altre versioni e ovviamente le ho prese quindi aspettiamo che arrivino e vi aggiornerò sono carini sono carinissimi allora altro acquisto questi sono degli stickers ed è sempre a un euro e sono questi qui ma adesso li apriamo perché dovrebbero essere sei fogli esatto allora sono fatti così così quindi sono diventando trasparenti comunque questo è il primo foglio poi vediamo anche questi sono carini questi qua sono carinissimi mi piacciono un sacco questi sono più piccolini da agenda ad esempio e sono bellissimi sì comunque sono tutti diversi anche questi carinissimi e ultimo foglio questi considerate che sei fogli a un euro mi sembra un buon acquisto sempre in tema di stickers vi voglio mostrare questi con i gattini aspettate sono sei pezzi sei fogli c'è scritto infatti ed è a un euro ovviamente un euro pieno di spedizione cioè guardate che carini tutti quei gattini poi c'è anche questo sono tutti diversi poi c'è questo che erano tutti nel stesso pacco che sono tutti simbolini emoji va bene sono scritti in cinese ma sono belli i simboli sono carini da mettere nell'agenda ad esempio questo che sembra una parte di tipo washi tape perché sono lunghi e l'ultimo è questo per me sono deliziosi quelli che vi mostro adesso invece sono degli adesivi di Pusheen sono fatti così questa grandezza e sono 50 gli ho controllati sono tutti diversi sempre un euro più un euro di spedizione guardate che carini aspettate fantastico questo è bellissimo anche questo è carino ci sono un po' di tutti 50 tutti diversi ci sono un po' di tutte le stagioni c'è quello classico poi c'è il buffino con un mare di pappa di Harry Potter qui è travestito questo è natalizio questo è classico questo è delizioso Pusheen DJ questo questo in cucina quasi finiti questo questo e l'ultimo è dentro un sandwich allora con questi mitici Pusheen io direi che ed è finiamo qui il video vi mostrerò altri acquisti nel prossimo video come sempre ed è se ti è piaciuto il video mi raccomando di mettere un like iscrivetevi al canale e di cliccare sulla campanella così ve l'avvisata ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 Grazie a tutti.